Abbiamo appena visto questa esibizione di Irojutsu. Cosa ti è sembrata? Cosa ti è piaciuta di Irojutsu? Cosa ti piace? Mi sembra che i bambini si sono pronunciati. La vedo più come una sporta di bambini. Non so perché. La vedo più pronuncia. Per un adulto è un po' più legnoso. Però i bambini sono molto bravi. Ti è piaciuta allora il gruppo che è stato creato con Irojutsu? Sì. Ok, perfetto. Lo vuoi anche cancellare? Naturalmente tu sai che lo seguite tra noi. Internet. Whatsapp. Youtube. Ciao.